Sparito nel nulla il potente bolide. Il sospetto cade sugli assaltatori dei bancomat e su chi traffica nel mercato nero. L'auto rubata dall'officina è una BMW M3 del 2007, portata via sabato notte da uno stabile di Piombino Dese, dove era in riparazione. Un modello non comune dalle prestazioni particolari che sicuramente si è fatto notare. Proprio per questi motivi potrebbe aver fatto gola a qualche malintenzionato interessato a utilizzarla per altri furti, rapine o assalti ai bancomat. Sarebbero queste per il momento le ipotesi più gettonate secondo gli investigatori, confermate dal fatto che la vettura sembra svanita nel nulla.